E adesso immaginate le giornate in fondo, il deserto, qualche coyote qua e là, qualche cactus e là in fondo una macchina arrugginita e dentro quella macchina arrugginita una radio che va. E adesso immaginate le giornate in fondo, il deserto, qualche c'è giù lui. E adesso immaginate le giornate in fondo, il deserto, qualche c'è giù lui. Sì 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no